Ti andi la borsa della mamma? Per l'ultima volta, signore... Ma dove... Ghida, dov'è tuo figlio? Devo chiedervi di andare via, siate gentili. Un bambino, un bambino che era con noi l'ha visto. E ora dove si è andato a cacciare? Non ho visto bambini. Le dico che eravamo in tre. Un bambino alto così. Vuoi vedere l'acquario? Dov'è la tua mamma, piccolo? Qua fuori. Posso, mammina? Sì, vai. Vieni. Però non so che cos'è un acquario. È la casa dei pesci. Shiko, amore, mi hai fatto spaventare. Quante volte devo dirti di non allontanarti da me? Non so che cos'è un'acquario. Non so che ne mangiare, non so che cos'è un'acquario. Quante volte devo dirti di non allontanarti da me? Niente, non so che cos'è un'acquario. Quante volte devo farvi rispondere. Vieni, 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 vieni... Grazie a tutti. Vi ho detto che non posso farvi entrare. Per favore, mi segua. Giù le mani! Abbassi la voce, la prego. Abbassi la voce, ma stia un po' zitto lei. No, senta signora, questo tavolo è prenotato. La faccio finita, i nostri soldi valgono quanto quelli degli altri. Dobbiamo andare. Sei impazzita, cadiamo, ho detto forza. Eh, brava, vada. Che ci fai ancora qua? Vieni, per l'amor del cielo. Sei una scimmia? Non ci si comporta in questo modo. Si era arrampicata sulla panca come una scimmia.